ciao salama laico oggi preparato e aglio olio e funghi e pesce anche pesce pesce con patate forno oggi preparato funghi alio olio 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 funghi ora preparato olio olio e prezzemola patate prezzemola aglio olio poco curcuma e vediamo adesso forno vediamo forno e accendi sotto sopra 40 minuti ci vediamo 40 minuti ok bene già pronto pesce già pronto funghi buon appetito e questo è tutto nana è sempre la migliore eh nana ciao saluto a tutti buon appetito buon ramadà ciao 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 Grazie.